Ciao Alessandra! Ma questo è Angelo! C'è Angelo! Vedi che la portano la Madonnina? Vedi come la prendono! Oh che si spingono le luci! Vedi? Vostra una telecamera! Da qua la fotocamera di Salvatore c'è l'opera di Salvatore! Grazie! Viva! 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 Vi vado in una parte! Viva! No! Viva! Viva! Mi volevanoiembrarske Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, Madre di Dio, Ave Maria, Madre d'Avo, non mi scordare di me.